Parte Marcellino in velocità, il pallone finisce a Procopio che fa da sponda, tocca Perienco, non era Marcellino. Marco Voci, esce Mercurio, Marco Voci, gol! E Marco Voci segna facendo impazzire il frabbotto mannesi. Sovrapposizione di Marcellino, riceve palla, al centro Vatrella, arriva e gol! Gol! Vatrella si riscatta immediatamente, l'Espresso, il Pendolino, l'Intercity di Staletti. Attenzione alle ripartenze, c'è Domenico Voci che parte in velocità, c'è anche Vatrella, velocissimo, Domenico Voci, serve Vatrella, non è fuori gioco, ancora per Domenico Voci. Sono tutti in aria, Domenico Voci! Ed è gol! Ed è il 3-0, il Montepone chiude la pratica. Sì, c'è stato un fallo netto su Passafaro con rigore netto fischiato dal signor Vona, Passafaro non ci sta, parte il rigore, tiro di Passafaro, Leone non ci arriva e Passafaro al 35esimo appunto accorcia le distanze. Fiorentino però continua ad attaccare, si allunga il pallone, Doria con lo stile da Cristiano Ronaldo, ancora per Fiorentino, ormai un'azione classica del Montepone, Pirritano! Pirritano! E' così, dopo il grande riscaldamento al 49esimo del secondo tempo, il quarto gol del Montepone. Ed eccoci ora con mister Pisano, 4-1 nei confronti di un Borgia mai arrendevole, ma soprattutto un Montepone che ha costruito passo dopo passo la partita fino alla fiammata intorno alla mezz'ora del secondo tempo. Sì, sì, hai detto bene tu, diciamo che il primo tempo è stato giocato bene ma a tratti, per poi uscire alla grande nel secondo tempo e fortunatamente, siccome il campo era molto pesante oggi, fortunatamente siamo usciti alla distanza e in quel frangente, adesso non mi vorrei sbagliare perché ancora non ho visto tutti i numeri della partita, però orientativamente in dieci minuti mi pare che abbiamo fatto tre gol, quindi lì credo che abbiamo chiuso la gara ovviamente ma mi ha fatto molto piacere vedere i ragazzi che hanno lottato su ogni pallone, che si sono sacrificati l'uno per l'altro, con la palla sempre a terra, ma non ho visto neanche un rinvio, sono davvero contento della prestazione. Soprattutto è stato dal ventitresimo al trentunesimo e poi abbiamo visto Pirritano che si è riscaldato, riscaldato, riscaldato e poi ha detto mister io quando entro faccio subito gol. Sì, diciamo che si è riscaldato bene, visto che è entrato e ha segnato, ma devo dire la verità, Salvatore Procopio avrebbe meritato ampiamente di segnare prima di uscire perché ha fatto dei movimenti fantastici in aria, ha preso un palo e ha creato diverse situazioni da gol e quindi sono contento di entrambi e ovviamente la squadra ha dato una grande risposta perché comunque in ogni caso incontrare un Borgia, che secondo me è una delle squadre più forse di questo campionato, mi ha fatto molto piacere averla vinta così. E possiamo concludere dicendo un Montepaone che ragiona da grande, due per tutti, 90-95 minuti della partita. Facciamo la nostra gara, poi la classifica dice che siamo una grande perché siamo nelle prime posizioni, ma come dico spesso ai ragazzi la classifica non la guardiamo, poi partita dopo partita le somme le tiriamo alla fine, potrebbe essere banale ma è così perché una squadra che è partita come la nostra adesso sta raccimolando ancora punti, soprattutto sta giocando bene, che è la cosa che mi interessa di più. Ed eccoci ora con quello che è un mio mito calcisticamente parlando e poi un ottimo allenatore, mister Carmine Fioretti, possiamo dire un Borgia che ha tenuto bene nel primo tempo e poi però ha subito un predominio soprattutto in dieci minuti del Montepaone. Ti ringrazio per la stima che hai verso di me, hai detto la cosa giusta, noi abbiamo fatto un'ora di buon calcio contro una squadra forte fisicamente, abituata a giocare in un campo così pesante, un campo da grande corsa, penso che fino a quel momento il pareggio era giusto. Poi è chiaro che dopo aver preso il primo gol ci siamo disuniti e abbiamo regalato mentalmente la partita al Montepaone e il Montepaone non ha bisogno di questi regali perché il Montepaone è una squadra forte, organizzata, una squadra che sicuramente arriverà in fondo a combattere il titolo con le altre. Però io penso che questo Borgia bisogna avere un po' di rispetto, nel senso che io forse gli ultimi dieci minuti sembravamo un po' una squadra allo sbando ma dovuta soprattutto a una carenza mentale perché dopo siamo andati sotto abbiamo perso la lucidità mentale in qualche giocatore quindi su quello dobbiamo lavorare. Chiedo scusa, forse si riferisce anche a quello screzzo che non è stato molto bello tra Passafaro e Criniti. Sì, quello è uno screzzo che non fa parte del Borgia Calcio ma dimostra come questi ragazzi tenevano a una partita così importante ma a noi era importante perché, un'altra cosa, io sul campo ho fatto 22 punti, quindi avendo 22 punti sul campo noi volevamo recuperare quella partita dell'andata vincendo qui potevamo inserirci in un campionato un pochino più frizzante. Però ora dobbiamo pensare a una salvezza tranquilla, dobbiamo pensare a divertirci, a valorizzare qualche giovane quello che la società mi sta chiedendo e poi cercare di arrivare il più alto possibile perché fino adesso penso che non ci ha messo sotto nessuno.